Un pezzo di treno notte purtroppo qui a Lambrati in transito con la sua macchina in coda Purtroppo ho perso la macchina di testa non sono riuscito a accendere il telefono L'ho pure spento mi dispiace perché di solito non ferma Lambrati è vero solo l'avventato Vabbè grazie per la visione e salve a tutti mi dispiace per il mezzo video Salve